I comuni non sono in grado di fronteggiare l'emergenza erosione e chiedono aiuto alla regione, ma la regione non ha risorse sufficienti e chiede l'intervento del governo e se nemmeno lo Stato dovesse dare risposte soddisfacenti, toccherà l'Europa a risolvere la situazione. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il governatore Marco Marsilio e i sindaci dei comuni maggiormente colpiti dalle mareggiate dei giorni scorsi, presenti anche due parlamentari abruzzesi, Nazerio Pagano di Forza Italia e la 5 Stelle Gabriella Di Girolamo. L'entità degli interventi che devono essere messi in campo per proteggere gli oltre 130 chilometri della costa abruzzese a rischio di erosione è tale che o il governo, l'Europa, chi sta sopra il territorio interviene o altrimenti i sindaci e i comuni da soli, ma neanche la regione, non possono essere in grado di intervenire, se non per le opere di somma urgenza. I due milioni stanziati dalla regione non potranno essere che un pagliativo. I circa 130 chilometri di costa abruzzese sono martoriati. Le spiagge in molti tratti sono praticamente scomparse, stabilimenti balneari sono crollati e il mare ha distrutto strade e arredi urbani. La cosa peggiore però è che si è ben lungi dal trovarsi d'accordo su quella che potrebbe essere una soluzione. Il litorale infatti è già ampiamente cementificato e interventi come la collocazione di barriere rigide e scogliere sembrano solamente spostare il problema poco più a sud. La Giunta ha approvato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza che trasmetteremo al più presto con tutti gli allegati alle amministrazioni competenti al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Lo stato d'emergenza, richiesto dalla Giunta regionale però, è una flebile speranza. Questi giorni di maltempo infatti hanno piegato diverse località italiane, mareggiate e desondazioni hanno costretto molti cittadini lungo tutta la penisola ad abbandonare le proprie case. Per Venezia ad esempio, su cui tutti i riflettori sono ora puntati a causa del suo pregio turistico, il governo ha già varato misure straordinarie, sono decine e decine gli sfollati del capoluogo veneto. Ed è proprio questa la faccenda burocratica che potrebbe declassare l'Abruzzo in fondo alla classifica delle urgenze. Nella nostra regione sono crollate solo strutture commerciali e al momento non vi sono sfollati. Per questo motivo le attenzioni dello Stato potrebbero privilegiare altre regioni e lo stato di emergenza, già negato per la grandinata estiva, potrebbe non essere accordato. Se ciò dovesse accadere sarà un grosso problema reperire le risorse necessarie a fronteggiare la calamità. Regione e comuni hanno le casse vuote.